In vista dell'incontro convocato per questa mattina dall'assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortini, ho inviato una nota di sintesi per motivare la richiesta del commissariamento che il 4 febbraio mandai al presidente della regione Campania. Inizia così la nota stampa del consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano, inviata alla nostra redazione inerente alla situazione attuale del piano di zona S8. Il primo punto, sottolinea Maurano, riguarda una situazione che si trascina dal 2013, il mancato versamento di risorse finanziarie da parte del comune di Castellabate, prima verso il piano di zona S8 e ora verso la regione. Stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia di euro che vengono sottratti alle fasce più deboli, cioè ai minori, ai disabili, alle famiglie con basso reddito, agli anziani che hanno bisogno di assistenza, fondi vincolati che dovrebbero quantomeno essere nel fondo cassa del bilancio del comune di Castellabate e che invece sembrano essere in un limbo. Per essere chiari, spiega, non stiamo parlando delle quote annuali ma del passaggio di cassa tra i due ambiti, che di fatto non è mai avvenuto. Tant'è vero che il 20 aprile 2018, dopo l'ennesima nostra richiesta e l'intervento del difensore civico, il responsabile di aria ci ha informato che il verbale del passaggio di cassa stava per essere redatto e firmato dalle parti in causa che ci sarebbe stato inviato. Ebbene, ad oggi ancora non c'è niente. Il secondo punto, continua il consigliere, sintetizza la vergognosa gestione del progetto denominato Vita Indipendente da parte del piano di zona ambito S8. 15 giorni fa sono stati pagati i mesi di novembre e dicembre, ma si possono tollerare questi ritardi per progetti che dovrebbero aiutare persone con la piena disabilità, quindi con la massima sofferenza. Il terzo punto riporta invece il grido di disperazione di una delle tante cooperative in difficoltà a causa delle inadempienze del piano di zona S8. L'esempio più calzante è quello della cooperativa La Sorgente di Perdifumo, che da due anni non viene pagata. Per andare avanti, le responsabili di questo centro per minori hanno provveduto con anticipazioni personali, ma ad oggi, a causa di una totale inadempienza nella gestione dei fondi del piano di zona S8, si rischia la chiusura di una struttura che aiuta i minori in difficoltà a reintegrarsi e a recuperare una prospettiva di vita sana e serena. Insomma, conclude Maurano, spero che l'incontro sia servito per risolvere tutti questi problemi e per resettare e riorganizzare i servizi sociali dell'intero territorio, perché aiutare le fasce più deboli della popolazione è un dovere morale, civico e politico prioritario.